44 terreni e 4 fabbricati a Corleone e Monreale, in provincia di Palermo, per un valore complessivo di poco meno di 15 milioni di euro. A tanto ammonta la confisca della Guardia di Finanza nei confronti di Bernardo Riina, 75 anni, di Corleone. Arrestato nel 2006 per associazione mafiosa, era stato poi condannato a 8 anni con sentenza della Corte d'Appello di Palermo. Oltre a partecipare alle attività criminali delle cosche, Riina avrebbe avuto un ruolo importante nel contribuire alla latitanza delle boss Bernardo Provenzano. Avrebbe infatti fornito aiuto sia logistico che soprattutto nella circolazione dei pizzini tra i vari componenti della famiglia mafiosa e il capo mafia, soprattutto durante la sua latitanza nell'ultimo covo la masseria incontrata a Montagna dei Cavalli di Corleone. Lo stesso Riina era stato più volte visto portare pacchi e buste sul posto. Ma i suoi rapporti con Provenzano risalivano a molto tempo prima. Aveva infatti testimoniato a suo favore durante lo storico processo svoltosi a Catanzaro alla fine degli anni 70, a carico di diversi esponenti mafiosi. La confisca del patrimonio immobiliare è scattata anche grazie alle indagini del gruppo di investigazioni sulla criminalità organizzata della Guardia di Finanza di Palermo, che ha messo in luce la sproporzione tra i redditi dichiarati dalla famiglia Riina e le consistenti somme di denaro investite nel corso degli anni, soprattutto nell'acquisto di terreni agricoli nel Corleonese e nella zona di Monreale. A fronte di redditi infatti quasi inesistenti fino al 2000, già a partire dalla fine degli anni 70, Riina aveva avviato un'intensa attività di acquisto di immobili, nella maggior parte dei casi, senza fare ricorso a prestiti o mutui bancari. Di conseguenza il suo patrimonio è stato ritenuto il risultato del reimpiego dei soldi della mafia.